ciao amori miei eccoci qua eccoci qua allora oggi facciamo il rotolo dolce adesso qui dentro ci sono cinque albumi e metto 200 grammi di zucchero e 2 3 uova che ma si amare nero bella bellissima e adesso piano piano inseriamo la farina che sono 130 grammi sempre un po alla volta metto ecco qua guardate un pizzichetto del lievito proprio un pizzichetto è un pizzichettino vai quanto basta cosa fai ecco adesso imburro la carta forno anche se non attacca però bisogna farlo va proprio imburrata la propria imburrata lo stesso è una poca farina sicadella di farina ecco qua che bella gildarella e adesso andiamo a pensare guarda che cremina mamma mia che spettacolo raga non spettacolo mamma mia che delizia un dolcetto favoloso qua questo qua piace a barbara però piace tanto anche al fratellino è vero lei che ti piace tanto e momo quando vedi che è finito angeli ci chiami subito eh nana che c'è dolcetto ma ma qualche dolcetto di quelli che hai fatto qualche dolcetto che hai fatto eh angeli tira un bacetta tuffino dai ci dare bello de mamma patatozzolo de mamma patossino ecco qua allora adesso lo vado a infornare questo va a 180 per 10 minuti un quarto d'ora però lo dovete controllare perché non lo so io lo controllo sempre ogni volta che lo metto sempre meglio controllarlo eh sempre controllare perché che ne so vado eh vabbè va a infornare gildare vai amore vai allora adesso preparo la crema allora 250 grammi di mascarpone poi 130 grammi di yogurt greco quello naturale e 70 e 80 grammi di zucchero a velo eccolo qua questo ora già in mascarpone e yogurt greco insieme è già tutto mischiato poi io vi volevo di una cosa io ne ho fatto un po' di più poi se mi rimane o ne basta tutto lo facciamo e qui metto lo zucchero eh che crema che viene fuori una bontà una meraviglia e adesso io ci metto pure due tappini di limoncello che ci stanno bene che ci sta benissimo poi vabbè potete mettere quello che vi parla viene una cremina che è una squisitezza ecco qua guardate che bella crema che profumo ecco qua tra la crema e il limoncello che vuoi devo dire spettacolo che è guarda un po' ecco lo sfornato e già rotolato eccolo lo lascio fredda un pochino perché se metto la crema si è squerqueruglia e no certo si deve fredda e allora se fredda intanto prende la posa così dopo non me si rompe ecco appena sfornato dovete fare sto lavoro perché in modo lo lasciate un po' così che si fredda dopo lo srotolate e questo quando lo rigirate non si rompe più perché oramai già gli avete dato la piega va bene? e allora famolo fredda va guardate che bel rotoletto sbrigate dai e su guarda che cremi ah vedete qui eh mi stavo a far vedere infatti guardate un po' cioccolato bianco ci abbiamo le fragoline lavate e tagliuzzate e cioccolate la cioccolata bianca tutta sminuzzata e poi sto ben di dio qua e poi c'è Girdarella e poi c'è sto io naturalmente e adesso che devi fare adesso Girdarella? ah mettiamo ecco fatto dai che crema sono inondata di profumi qua eh tra ste fragole sta crema che vuoi dica fa? lo devo dire più l'odore di sto pan di spagna qua ecco mamma mia che profumo di dolce Girdarella ah guarda che spettacolo troppa tanto più decimpo eh vabbè allora adesso mettiamo vai granelle di cioccolato granelle ho tritato tutto ecco qua ecco qua cioccolata bianca sminuzzata che goduria un po' di fragoline ecco qua altro che quelli comprati quelli confezionati si tutta un'altra cosa questa si può mangiare pure così senza rotolare non vuol dire quando vi volete sbrigare manco mezz'ora avete fatto tiè guarda che dolcetto tutti i quadratini mettete due candeline e si festeggia il compleanno buono ops io poi l'ho fatto non ho visto niente Girdarella e va bene avete visto niente eccolo qua ecco 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 fatto c'è guarda che rotolone qua ecco io quello in più ce lo metto sopra che tanto è buono uguale tiè eccolo qua guardate che bello l'ho fatto riposare muovero rigiro eccolo qua bellissimo buono e adesso vi faccio vedere com'è venuto che dolcetto vediamo un po' com'è venuto fatto riposare in frigo ecco si guardate è meraviglia con una forchetta eccolo qua mamma mia che bontana delizia la crema è da paura io ho già assaggiata ve lo dico da paura proprio bella eh però io adesso non l'assaggio guardate un po' sì eh perché gira ci faccio vedere qua guardate che meraviglia eh bellissimo è caduto un pezzetto qua eh assaggia lo ci darei non è mai buono lo so che è buono lo faccio sempre però mmm ammete mamma mia spettacolo eh Gildare e adesso faccio un saluto a Rossella Maggiolini ciao Rossella che ci segue dalla Brianza ciao Rossella e adesso saluto Giannina D'Agostino che ci segue da Torino ciao Giannina ciao Giannina un bacio e adesso e adesso tanti baci belli a voi spero che vi sia piaciuto a me mi piace tanto a me mi piace tanto va bene allora tanti baci belli sempre dal cuore ciao belli e seguiteci sempre sulla cucina di Gilda ciao 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 ciao